In tanti anni di lavoro non ho mai visto una cosa del genere. Sta tutto nell'amaro commento sfuggito al medico legale Antonio Tombolini l'orrore di quanto accaduto a Pamela Mastropietro, la giovane fuggita lunedì dalla comunità parse di Corridonia ed il cui cadavere è stato ritrovato fatto a pezzi all'interno di due valigie abbandonate a casette verdini di Pollenza. Le indagini avviate subito dopo il macabro ritrovamento hanno condotto nel giro di poche ore in via Spalato a Macerata. È qui che la ragazza, martedì mattina, ha acquistato una siringa in una farmacia della zona ed è proprio dalle telecamere della farmacia che gli inquirenti sono giunti all'identificazione di Innocento Segala, un 29enne nigeriano già noto per precedenti dispaccio, ora posto in stato di fermo. Nella serata di mercoledì è scattata la perquisizione nella casa del ragazzo e, stando a quanto è dato sapere, gli inquirenti hanno rinvenuto abiti femminili sporchi di sangue e lo scontrino dell'acquisto fatto proprio in farmacia dalla giovane Pamela. Particolari che sembrano inchiodare il nigeriano, in Italia da anni ma con il permesso di soggiorno scaduto ormai da tempo. A peggiorare la posizione del 29enne ci sarebbe anche la testimonianza di un uomo che racconta di aver visto proprio a casette verdini Innocento Segala, ora assistito dall'avvocato Monia Fabiani di Camerino. È ipotizzabile che Pamela, dopo essere fuggita dalla comunità, abbia incontrato il nigeriano, probabilmente per procurarsi una dose di stupefacente. Cosa sia poi accaduto dovranno ricostruirlo gli inquirenti, ma non si esclude che la giovane possa essere andata in overdose e che il ragazzo abbia voluto disfarsi del cadavere nel più terrificante dei modi. Ipotesi, comunque, che perdono anche senso davanti alla crudezza e alla tragicità dei fatti, perché quello che è certo è che il corpo della 18enne è stato ritrovato fatto a pezzi, lavato e poi nascosto in due valigie. Resta da capire se ad aiutare il principale indiziato, che comunque respinge ogni accusa e si dichiara estraneo ai fatti, possano esserci stati dei complici. Non si escludono, in questo senso, ulteriori colpi di scena.